Centinaia di ragazzini davanti al Bunka Kaikan, ma staranno andando tutti all'opera? Centinaia di ragazzini davanti al Bunka Kaikan, ma staranno andando tutti all'opera? Centinaia di ragazzini davanti al Bunka Kaikan, ma staranno andando tutti all'opera? Centinaia di ragazzini davanti al Bunka Kaikan, ma staranno andando tutti all'opera? Tè e caffè per tutti nell'intervallo di balle in maschera. Siamo con Junko, una delle migliori interpreti che abbiamo incontrato in Giappone, anzi veramente l'avevamo già incontrata in Italia, infatti siamo diventate amiche. Che cosa vuoi dire al pubblico italiano? Qual è la parola giapponese del giorno? Tokyo. E cosa vuol dire? Venite a Tokyo. Grazie, penso proprio di sì, è una città bellissima, grazie. 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 Applausi per tutti al ballo in maschera di Giuseppe Verdi. Questa pilora di passione finisce qui, a domani. Paola Giunti, Teatro Reggio, Tokyo. Grazie. Grazie.